Ego Kid, come mai siete qui a Slamix? Perché volevamo fare questa intervista a tutti i costi. Perché crediamo nella causa ovviamente. Perché crediamo che il Conchetta debba vivere a lungo perché altrimenti questa città perderebbe una fetta importante di cultura cittadina, di controcultura cittadina. Di vita sul territorio, di tutte le cose nelle quali da tempo crediamo e ci credono tutte le persone che sono qua stasera e sono tante. Non si vuole fare leggere Assessore alla Cultura, è proprio vero. Perché errei un voto il suo. Cazzo ci faccio, insomma. Quali sono i vostri progetti per il futuro? Stiamo realizzando un disco nuovo, dopo Eceomo, dopo due anni. Sarà anche una cosa un po' diversa dal disco pop molto ironico che abbiamo fatto. Sarà un po' più mazzata. Un disco dove esprimiamo delle cose che sono come quelle urgenti, però nel frattempo l'urgenza è andata un po' incazzata. Tutte le cose vanno a male a un certo punto. E l'urgenza si è incazzata per quale motivo? Perché hai presente il mondo in cui stiamo in questo momento, manca proprio di quello, di una sana incazzatura. In realtà ci siamo lasciati con i rispettivi uomini. Anzi, no, lui no. Ma tu no, io sì. Quando mai? No. Cioè lui è contento, infatti la parte contenta del disco è lui. Io sono la parte incazzata e triste. Sono quella romantica e lui quella politica. No, poi entrambi in realtà, quello che dicevo comunque prima è vero. Cioè, sembriamo anestetizzati. E allora se stai comunque facendo quello che si suppone sia, non dico un'arte, ma un'artigianato, quello che, se stai facendo delle cose e hai voglia di parlare, ti viene voglia di essere incazzato per mille, per tutti i mille che vanno così, giorno dopo giorno. Questa cosa a noi sembra importante. Un po' esistenziale, ma esistenziale anche un po' pessimismo cosmico, esistenziale. E poi è anche un album molto in realtà sul concetto di regenerazione. Nel senso che non è un soltanto... Questo era un album più di critica sociale, ironico, mentre quest'altro è più un disco che vuole la palingenesi. Insomma, cerca quella specie di tensione verso qualcosa che ancora non si sa bene, però è come aver chiuso pagina, e ad essere pronti a voltare pagina, cerca questa sensazione di liberazione, di tutto nuovo. È un po' la cosa anche che abbiamo noi, insomma.